quello che sapete non muta scuola del cerchio firenze 77 attraverso roberto setti a cura di vb dali eccoci qua ancora una volta riuniti figli per scambiare le nostre idee per parlare insieme di queste verità le quali sono sconosciute alla maggior parte degli uomini oggi incarnati ma che debbono essere da tutti un giorno conosciute ha perso forse di valore questa affermazione dopo quello che vi abbiamo detto certo che si può dire la verità con termini ancora più precisi ma sostanzialmente quello che sapete non muta era e rimane vero non cambia di valore non è errato dire che tutti gli uomini un giorno conosceranno la verità conosceranno queste verità che voi già conoscete ognuno nella gamma del suo sentire nella gamma della sua vita individuale a questo sentire corrispondente corrispondente al conoscere le verità che vi abbiamo preannunciate corrispondente oltre all'assemilare queste verità a ritrovarle nell'intimo suo ognuno di noi a ogni individualità intendo dire a questo traguardo questo punto di passaggio questa fase questo stadio ed è importante che l'uomo si avvicini a questa verità comprendendola pienamente nei riflessi che essa può avere nella sua vita ecco perché dopo quello che vi ha detto il fratello campis con parole a voi note ma con significato più vasto più profondo la sorella teresa ha voluto richiamarvi in modo che voi possiate apprendere giustamente queste verità il conoscere che niente trascorre che tutto rimane il sapere che in ultima analisi ciascun sentire dell'individuo è un sentire limitato e quindi errato e che quindi tutti erriamo nello stesso modo il sapere questo figli da deve dare un enorme comprensione comprendere tutti continua